Alvia gli esami di maturità, quale tema hai affrontato? La Costituzione italiana, davanti alla legge siamo tutti uguali e l'ho collegato alla fine della Seconda Guerra Mondiale e ho sviluppato i punti della Costituzione, guardando come si è realizzato, se è realizzato bene e se nella vita reale funziona. Quale traccia hai affrontato questa mattina? La tecnico-scientifica sulla parte della bioetica, quindi ho trattato la pecora d'ogli e la clonazione dell'uomo che dobbiamo vedere se verrà effettivamente effettuata o no. Qual è la tua opinione a riguardo? Io spererei di no, si spera ovviamente di no perché credo che non sia una cosa affatto naturale da non fare assolutamente. Quale traccia hai scelto? Il saggio breve, era sulla solitudine, c'erano appunto tre quadri che rappresentavano la solitudine e dei testi e era molto semplice sinceramente. Quindi l'hai scelta per la semplicità? No, perché a primo impatto mi è venuto subito in mente quello che è scrivere. Com'è andata questa mattina per la prima prova? È andata meglio di quanto pensassi, c'è stata meno ansia del previsto. Quale tema hai affrontato? Ho affrontato il tema degli ebrei, del razzismo, del fascismo, del nazismo e comunque del fatto che venivano discriminati. È un tema che sta tornando di grande attualità questo? Sì, perché comunque ora c'è questa faccenda dei migranti che allo stesso modo degli ebrei non vengono considerati come persone degne di stare qui. Qual è il tuo commento a riguardo? Che non è giusto. Quale traccia hai scelto? Artistico letterario. E qual era il tema? La solitudine. Un tema importante? Come lo hai sviluppato e perché? L'ho sviluppato considerando che la solitudine sia una cosa negativa che positiva e che non deve essere qualcosa di cui aver paura, perché è qualcosa a parte della vita. È un tema molto attuale anche tra i giovani, quello della solitudine. Qual è il tuo commento a riguardo? Sicuramente i social network sono una parte molto importante di questo problema e le persone tendono sempre a allontanare gli altri perché per le differenze e quindi si ha paura degli altri. Come è data la prima prova? Bene, dai, speriamo bene. Il tema era la creatività. Come hai mai scelto questo argomento? Perché secondo me è un tema che rappresenta anche la nostra generazione, che è una generazione che comunque deve essere creativa anche in prospettiva nel futuro, nel senso di riuscire a crearsi magari, che ne so, un lavoro dal niente possiamo dire. Sicché è un tema che ho trovato molto interessante.